In questa puntata andiamo a vedere tutto quello che sta succedendo in questo momento su Bitcoin, ma soprattutto sulle altcoin. Al season, quand'è che arriverà il momento in cui la dominas inizierà a scendere? Fede, quand'è che finalmente sarai bullish al 100% sulle altcoin? Bene, vi dirò tutto questo nella puntata di oggi. Quindi, come al solito, prima iniziale mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Questi non sono consigli finanziari, non sono un consulente finanziario, per cui fate sempre le vostre ricerche prima di mettere a rischio il vostro capitale all'interno dei mercati finanziari. E iniziamo subito da Bitcoin, perché ragazzi, come al solito, prima di andare ad analizzare le altcoin, e questo dovete mettervelo bene in testa, dovete andare a guardare Bitcoin. E ancora prima di guardare Bitcoin, bisogna andare a vedere cosa fa l'SP500. Dato che in questo momento Bitcoin non è più BTCUSD, ma è più BTC500, dato che il prezzo sta seguendo in questi giorni l'andamento dell'indice azionario di riferimento, cioè l'SP500. Ragazzi, l'SP500 che è salito in questi giorni, siamo molto vicini a fare dei massimi storici, manca praticamente un più 0.67%, settimana molto positiva questa per l'SP500. Chiaramente ci avviciniamo a settimana prossima, settimana molto intensa, quindi settimana prossima, perché è veramente la settimana chiave per i mercati e tutti quelli che operano stanno proprio aspettando la giornata di mercoledì 18. Perché, ragazzi, ci sarà la decisione della Fed, 50 punti base, 25 punti base, quanto la Fed taglierà questi tassi di interesse, sarà importante per capire l'entità di una gravità di una situazione economica. Ok? Cioè, praticamente bisognerà capire, in base all'entità dei tagli che andranno a fare, se la situazione è grave oppure meno grave. E, di conseguenza, il mercato reagirà. Io spero, come sapete, in un taglio da 25 punti base, perché storicamente viene preso meglio dal mercato. Mentre un taglio da 50 punti base significherebbe, oh mio Dio, le cose stanno andando malissimo. Quindi, occhio, per cui, attenzione a questo. L'SP500 sta andando bene, l'oro, l'oro, ragazzi, ha fatto praticamente dei nuovi massimi storici, continua a salire. Ve l'ho scritto anche qui all'interno del mio gruppo, completamente gratuito, Tarto, trovate il link qui sotto in descrizione. Bitcoin, l'oro digitale, è a 60.000 dollari. Ora, chiaramente, Bitcoin in questo momento si sta muovendo, come vi dicevo, in maniera molto simile all'SP500, quindi ancora prima di andare ad analizzare le altcoin, bisogna vedere quello che fa Bitcoin. Bitcoin è tornato intorno ai 60.000 dollari. Mi fa ridere questa cosa, perché purtroppo qui su YouTube molti sono un giorno bullish, un giorno bearish, un giorno è iniziato il bull market e si va a 100k, il giorno dopo si va a 20k. Le persone non riescono ad essere coerenti e soprattutto, chiamiamoli colleghi qua su YouTube, in tanti veramente non sanno proprio cosa dicono e un giorno bullish, un giorno bearish, un giorno 40.000 dollari, il giorno dopo 60.000 dollari. Perché? Perché si muovono in base a quello che succede. Cioè, se il prezzo sale, allora sono bullish, se il prezzo scende, allora sono bearish. A me questa cosa qui, cioè non riesco a digerirla. Perché Bitcoin, come vi ho detto in queste settimane, per me è ancora in una bull run. Bitcoin è estremamente in una situazione in cui io sono convinto sia positiva. Perché? Perché nonostante quello che potrebbe succedere nel breve termine, che nessuno sa quello che potrebbe succedere, nel medio-lungo termine, ragazzi, inizia un nuovo ciclo di liquidità. Cioè, la Federal Reserve andrà a creare nuovo denaro, andrà a immettere nuova liquidità all'interno del mercato. E abbiamo visto anche all'interno del mio gruppo, completamente gratuito, c'è il link qui sotto in descrizione, dopo un lungo periodo di stagnazione nel mercato, finalmente si vede uno spirale di luce. La liquidità sta tornando a crescere e Bitcoin, notoriamente sensibile a queste dinamiche, potrebbe reagire di conseguenza. Il contesto macro si sta evolvendo e guardate qual è la prospettiva dell'indice della liquidità totale. Bitcoin agisce in maniera molto positiva al crescente della liquidità. Perché? Perché Bitcoin è nato proprio per questo. Bitcoin è una risposta alle politiche monetarie delle banche centrali. Cioè, Bitcoin è stato programmato per essere scarso, al contrario di quello che succede con le valute fiat. E soprattutto Bitcoin è stato creato per lottare la svalutazione del denaro. Tra l'altro, ragazzi, se volete sfruttare al meglio la volatilità che c'è in questo momento sulle cripto, Bybit sta regalando una posizione di trading dal controvalore di 500 dollari a scelta su Bitcoin, Ethereum, Solana, Pepe, Dogecoin e altre criptovalute. A tutti i nuovi utenti che si registrano sull'exchange attraverso il link che trovate in descrizione. La posizione può essere sia long che short, con stop loss e take profit a piacere. Qualsiasi profitto dalla posizione potrà essere prelevato, mentre se andrà male perderete solo il bonus. Per ottenere tutto questo bisogna registrarsi a Bybit con il link in descrizione, dato che si tratta di una promo esclusiva per la mia community, fare la verifica dell'identità e depositare almeno 100 dollari sull'account. Infine, basterà semplicemente fare il claim del bonus dalla sezione Rewards Hub. Questa super promo scade tra pochi giorni, per cui non fatevela sfuggire, dato che secondo me al momento è il miglior bonus di benvenuto tra tutti gli exchange cripto. Detto ciò, su Bitcoin continua a essere molto positivo. Io sono convinto che la Bull Run non sia terminata, siamo ancora all'interno della Bull Run che ormai è partita molto tempo fa, a novembre 2022. Abbiamo superato l'Halving, storicamente sappiamo dopo l'Halving c'è un periodo di difficoltà, un periodo di debolezza, ma storicamente l'ultimo trimestre dell'anno è molto positivo, sia per Bitcoin e soprattutto anche per i mercati azionari. Questo è molto importante da tenere in considerazione. In più abbiamo finalmente messo da parte i problemi relativi a MTGOX, i problemi relativi ai Bitcoin del governo tedesco, tutte quelle notizie negative. Abbiamo messo da parte anche tutta la pressione di vendita derivante dai miners che arriva dopo l'Halving. Quindi io sono ancora molto positivo. E con questo, con questa premessa, andiamo a vedere cosa succede sull'Halcoin. Perché le Halcoin continuano a far fatica? Perché ragazzi, è normale. Cioè, quello che vi ho sempre detto in questi mesi, anche all'interno del report gratuito dell'Halcoin, dove vi spiego tutto, quello che dovete sapere sulle altre link qui sotto in descrizione, le Halcoin seguono l'andamento di Bitcoin e quando performano meglio? Performano meglio quando Bitcoin sale, quando Bitcoin è massimistoici, quando Bitcoin è nel suo picco della Burran. Perché? Perché le Alt sono speculazione. Le Halcoin non sono una risposta alle politiche monetarie della Fed. Le Halcoin non sono loro digitali. Le Halcoin sono strumenti speculativi, strumenti speculativi che danno il meglio quando il settore di riferimento spinge e che danno il peggio quando il settore fa fatica o rimane stagnante. Detto ciò, le Halcoin in questo momento sono ancora in sottotono. Come potete vedere, la dominance di Bitcoin è praticamente ai massimi locali. Se andiamo a vedere le valutazioni delle Halcoin in prezzo di Bitcoin, sono tutte abbastanza deboli. Soprattutto andiamo a vedere Ethereum BTC che continua a scendere 0.04. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che al momento, come continuo a dirvi da mesi, io personalmente evito le Halcoin. Perché? Perché Bitcoin è ancora ben lontano dal suo ultimo picco finale e dal suo ultimo periodo di massima salita. Abbiamo ancora, in questo momento, delle politiche monetarie restrittive. Tendenzialmente le Hal fanno bene quando ci sono delle politiche monetarie espansive. E ci stiamo arrivando. In più, soprattutto, che poi è una conseguenza del fatto che il prezzo di Bitcoin sia salito, l'interesse dei retail deve essere alto. E in questo momento, come vi ho condiviso all'interno, sempre del mio gruppo gratuito Tartorod, se andiamo a vedere l'applicazione di Coinbase, che è un grande indice di riferimento per quanto riguarda l'interesse retail, ragazzi, l'applicazione di Coinbase è uscita dalla classifica delle prime 500 applicazioni più scaricate negli Stati Uniti questa settimana. È il livello più basso raggiunto in oltre un anno e dimostra come ci sia pochissimo interesse retail in questo momento sul mercato. Basta anche andare a vedere le visualizzazioni sul mio canale YouTube, ragazzi. Potete notare come le views non sono così alte come lo erano a gennaio, febbraio, marzo. Ora, questo perché è importante? Perché chi è che opera sulle altcoin? Gli investitori retail, che sono attratti da che cosa? Dal prezzo di Bitcoin che sale. E quindi, quando è che le alt danno il meglio? Quando Bitcoin è vicino al suo periodo finale, al periodo conclusivo della bull run. E lì le altcoin spingono. Considerate che anche buona parte degli investitori di Bitcoin si sposta poi sulle altcoin. Proprio perché va a sfruttare il ciclo dei soldi che c'è nel mercato cripto. Da Bitcoin alle altcoin. E poi stablecoin, e poi Bitcoin, altcoin, stablecoin, Bitcoin, stablecoin, altcoin. Ma in questo momento ancora siamo lontani. però sono convinto che un altseason possa dunque esserci l'anno prossimo. Non credo quest'anno. Lo reputo molto improbabile. Però l'anno prossimo potrebbe essere l'anno in cui effettivamente le altcoin potrebbero dare meglio di sé in prezzo di Bitcoin. ovviamente sarà un periodo breve quindi non credo che sia un periodo che possa durare un'eternità. Però la dominance credo e sono convinto sia in procinto di fare un'ultima magari fiammata verso l'alto quando Bitcoin andrà a recuperare magari 70 75 mila dollari per poi lasciare spazio al coin. vedere anche magari eventualmente i flussi degli ETF spot salire in particolare quelli di Ethereum vedere i retail tornare perché attratti dalle performance positive ed è questo ciò che serve per ripartire. Ad oggi però la situazione rimane piatta e soprattutto anche con le preoccupazioni che ci sono state nelle ultime giornate relative alla recessione pericolo economico crolla tutto fine del mondo è normale che Bitcoin sia l'asset che tenga meglio perché? Perché è quello più sicuro io personalmente non mi sentirei tranquillo a detenere un altcoin per il lungo periodo io personalmente mi sento tranquillo nel detenere Bitcoin nel lungo periodo ma un altcoin no nemmeno Ethereum ragazzi con Bitcoin invece non mi faccio questi problemi quindi immagino che se uno abbia delle preoccupazioni anche relative a un possibile crollo dei mercati totale dov'è che preferisce stare? Su Bitcoin o sull'altcoin? Quindi tutto questo ha fatto sì e come potete notare anche ora che stiamo salendo Bitcoin si sta prendendo dominance e questa è un'ottima cosa adesso nel breve termine come vi dicevo credo che le altcoin continueranno a far fatica in prezzo di Bitcoin e magari potremmo assistere a una capitolazione delle alt in prezzo di Bitcoin e quando dico in prezzo di Bitcoin è importante perché se voi guardate Ethereum USD vedete solamente una faccia della medaglia se voi invece osservate il grafico di Ethereum il prezzo di Ethereum in Bitcoin notate se Ethereum sta facendo meglio sta facendo peggio o sta facendo lo stesso rendimento di BTC e allora lì potete capire se ha senso prendersi dei rischi più alti per dei potenziali rendimenti più alti perché voi investite nell'altcoin operate con l'altcoin per ottenere dei rendimenti più alti ma se il grafico Ethereum BTC è una schifezza totale da mesi capite che sto ben lontano in questo momento da pensare scommettere un rialzo di Ethereum nel prezzo di Bitcoin poi per carità può succedere ma personalmente a me non piace prendere i minimi anche perché minimi e massimi sui mercati non li prenderete mai quindi a meno che non ci sia una capitolazione del prezzo ovvia aspetto un'inversione di trend una chiara inversione di trend in questo momento non c'è una presa di forza che in questo momento non c'è e che se arriverà credo quando Bitcoin inizierà a fermarsi verso magari 75 80 e non aspettate perché magari mi avete frainteso non fermarsi nel senso che arriva 80 e fa così ma fermarsi come intensità e forza nella salita perché arriverà un momento in cui inizierà a stabilizzarsi per poi ritornare giù in quel momento le alt iniziano a far meglio se guardate nel passato quando è che le alt hanno performato meglio di Bitcoin quando BTC era in prossimità e ha superato i vecchi massimi storici quindi idealmente potremmo assistere a un ritorno di forza sulle alt effettivo magari inizieranno anche due giorni prima non abbiamo più pari di idea però effettivo il trend potrebbe iniziare quando e se Bitcoin tornerà intorno ai 70 72 73 mila dollari allora lì potrebbe essere la fase in cui potremmo assistere ad una forza delle alt coin ma fino ad allora fino prima di entrare in questa fase conclusiva della bull run io le alt coin le continuo a tenere a distanza le osservo ma le tengo a distanza proprio perché mettete che poi le cose fanno male quindi Fede si sbaglia la bull run effettivamente è finita cacchio la bull run non è iniziata la bull run è finita va bene ok quindi Fede si sbaglia Fede non capiva niente perfetto ecco che in una situazione del genere preferisco come dicevo prima detenere bitcoin rispetto a detenere l'alcoin perché su bitcoin sono convinto che comunque in un futuro mal che vada possa tornare a salire sulle alt non proprio ho dei dubbi e non mi sento così tranquillo a meno io personalmente a detenerle perciò questo è un discorso importante sulle alt secondo me c'è ancora da aspettare un attimo e c'è ancora da avere pazienza bisogna vedere soprattutto quello che succederà settimana prossima come reagiranno i mercati se i mercati festeggeranno della decisione presa della federal reserve io sono convinto di vedere in questo ultimo trimestre dell'anno un'ultima salita dalla dominance bitcoin che riprende forza per poi lasciare spazio alle altcoin e vedere poi anche il top di mercato quindi crypto generale e anche quello delle altcoin nel 2025 ma in questo momento credo che bisogna avere un po' di pazienza finché le cose non non si sistemeranno perciò fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti ovviamente vi ricordo come al solito di mettere un mi piace di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e noi ci vediamo alla prossima ciao